In tre mesi non si può fare quanto si può fare in tre anni, però assicura alla Corte serenità e indipendenza perché nessuno pensa o programma una corsa indipendente dalle scansioni temporali. In questo caso non mi nascondo le criticità, quindi cercherò nel breve tempo possibile di portare avanti tutti i progetti che sono partiti da Giorgio Lattanzi, hanno avuto un grande incremento da Marta qui vicino, quindi la riforma del personale, il problema dei rapporti con l'estero e dell'interfaccia attraverso le nostre sentenze, la traduzione e quant'altro, tutto quello che è possibile. La collegialità è la risposta agli inconvenienti legati al breve tempo perché è vero che il Presidente ha qualche potere in più, non è proprio letteralmente un primo impasse, ma i poteri in più che caratterizzano la figura del Presidente sono assai relativi perché la Corte sia in sede giurisdizionale che in sede amministrativa lavora collegialmente e quindi il ruolo che ognuno di noi è in grado di dare lo dà allo stesso modo come giudice prima, eventualmente come Presidente dopo, non cambia nulla. Voglio ancora di più, dati i 5 mesi, accentuare la collegialità, quindi ho già nominato due Vice Presidenti che sono quelli che mi seguono nell'ordine di anzianità e il primo dei quali sarà al 99,99 Giancarlo Coraggio, il prossimo Presidente e propongo di inserirli, cosa che fino adesso non è stata fatta nel Consiglio di Presidenza in modo da essere anche il Consiglio di Presidenza allargato e più collegiale. I due Vice Presidenti sono il Presidente Giancarlo Coraggio, l'amico Giancarlo Coraggio e Giuliano Amato. Grazie.